Un altro scossone giudiziario scuote la città di Ferentino, sempre in riferimento al project financing del cimitero. I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti dell'ex assessore comunale allo sport e alla manutenzione pubblica Luca Bacchi, indiziato in concorso con gli altri cinque arrestati lo scorso 7 marzo di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un giovane imprenditore di Tivoli, che si era giudicato l'appalto di circa 6 milioni di euro utile alla costruzione e alla gestione di loculi presso il cimitero del comune di Ferentino e per il quale, secondo le accuse, Riggi, quando era consigliere comunale di maggioranza con delega ai servizi cimiteriali, aveva preteso una somma di denaro a titolo di tangente. Le indagini portate avanti dai carabinieri di Tivoli hanno messo alla luce una serie di incontri tra la parte offese e gli estorsori e, a margine di questi, tra Riggi ora in carcere a Regina Celi e l'ex assessore Bacchi. Secondo le accuse, quest'ultimo si sarebbe accordato con il consigliere comunale per la divisione della tangente e avrebbe avallato la decisione di rivolgersi ad esponenti della criminalità organizzata. Non solo per gli inquirenti avrebbe assunto quello che viene definito dal giudice per le indagini preliminari la funzione di amico buono dell'imprenditore. Un intermediario, infatti, che da un lato tentava di mostrarsi comprensivo verso la vittima mentre dall'altro incontrava il consigliere comunale condividendone la strategia estorsiva e compiacendosi dell'azione violente e prevaricatrice del clan. Le intercettazioni, il materiale trovato e sequestrato nel corso di una perquisizione presso l'abitazione dell'ex assessore e, in ultimo, l'interrogatorio del consigliere comunale tratto in arresto, ha confermato l'impianto accusatorio e ha consentito l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Bacchi sebbene avesse cessato la sua carica politica, così come scrive il GIP nell'ordinanza. Seppur non rieletto al comune di Ferentino, l'inserimento sostanziale dell'ex assessore nell'amministrazione del comune emerge sia a riguardo ai neoeletti della lista civica da lui capeggiata sia dall'incarico ricoperto di assessore alla manutenzione grazie al quale si è relazionato con una serie di dipendenti comunali tutti potenzialmente in grado di fornire, alla luce dei nuovi sviluppi investigativi utili informazioni pregiudicati nella loro genuinità dallo stato di libertà del Bacchi.